Una ragazza, una ragazzina che è molto piccola però ha delle doti canore che sono veramente eccezionali Marzia Di Balbo E quindi eseguiremo adesso una canzone degli U2 famosissima, la più famosa, One La versione è quella con Mary J. Blige che è Marzia praticamente Non mi reputo buono però lei interpreta bene la sua patria Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make the dreams young enough? You got someone to let you set Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no It's only anything In the night Oh no Oh no The sherry Oh no Is it getting better? Baby Oh no Oh no Oh no Did I disappoint you? Or if I blast my fingers in the mouth? Oh no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.